Artemisimo Miscano si salvi Kipu è l'ultimo atto dei play-out e soltanto una ne uscirà vincente da un lato i pugliesi che avevano iniziato la stagione in maniera brillante dall'altro la squadra di Marinaccio che pur avendo perso qualche pedina ha giocato alla pari contro il Montella sul campo di Savignano sarà una battaglia che di sicuro non vede nessuna delle due favorita la speranza è che Verrilli e compagni possano riuscire nell'impresa di conservare la categoria anche perché il comprensorio al suo primo anno in promozione ha disputato un campionato più che dignitoso e l'Artemisimo visto contro la Sigonolfi non è di certo imbattibile l'ex allenatore della Vista Ariano punterà sull'accoppiata Verrilli-Cavotta sulle due punte che hanno messo a segno insieme 21 gol toccherà a loro trascinare i gialloneri nella gara che vale l'intera stagione Pasticcio della diventa del Brotta, Verrilli prova in sinistro e c'è il gol del comprensorio miscano subito così come nel primo tempo arriva dopo un solo minuto di gioco il gol del comprensorio miscano in rete doppietta per lui Verrilli Montella e Sigonolfi hanno staccato il biglietto per la permanenza in promozione domenica invece conosceremo il destino dell'ultima erpina rimasta in gioco Grazie mille! Grazie mille!